Giorda, però anche tu hai messo del tuo, il tuo carico a briscola ce l'hai messo. Allora, lei mi ha detto, sì sì, io ho detto quello che penso, perché secondo me ero troppo pochi giorni perché lui facesse questo. Per me lui è un grande attore, un grande stratega, io lo dico davanti a tutti. Quindi è solo strategia? Per me sì, sta giocando forte lui, sta giocando forte. E beh, d'altro canto siete lì per giocare anche, eh? Stai giocando dentro di questo reality perché questo serve, questo reality, anche a giocare. Esatto, io l'ho pensato così. Anita, Anita, tu che idea ti sei fatta di Heidi? Cioè, è una bellissima ragazza, secondo me è anche molto molto intelligente, sveglia. Io quello che ho detto... Esattamente questo, guardiamo insieme il tuo parere su Heidi. Ok. Allora, niente. Heidi, Heidi, Heidi. Spero che sei vestito sempre bene, guarda. Oh, io ogni tanto la becco che tipo guarda, ma se ti fa così. Sì, ma se non è fatto. 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 Non è che poi...